Agropoli si prepara alla festa dei suoi santi patroni, gli Apostoli Pietro e Paolo, che si svolgerà il prossimo 29 giugno in una celebrazione pubblica presso la Piazza d'Armi del Castello, per garantire il rispetto della normativa anti-Covid. Questi giorni di preparazione alla festa, accompagnati dalla tradizionale novena, hanno visto quest'anno la novità di una messa all'aperto presso lo spazio antistante il Covid Hospital di Agropoli, al fine di portare conforto agli ammalati e ringraziare il personale sanitario per questo impegno di frontiera a servizio dei pazienti. È così che è nato l'invito al parroco Don Carlo Pisani di portare le immagini dei santi in visita presso l'ospedale, un'accoglienza grata e festosa che si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso parroco della Chiesa Madre. Anche lui impegnato in questi mesi a portare il conforto spirituale della fede ai dei genti presso il nosocomio agropolese. Don Carlo è stata una presenza fissa quando è venuto, quando ci ha chiamato, quando ha visto i nostri ammalati, li ha conosciuti tutti o quasi. Il suo supporto è stato esemplare, ha dato una mano a noi, ha dato una mano spirituale ai nostri pazienti, è entrato in Covid senza temere nulla, si è vestito, si è fatto uno di noi e per questo lo ringraziamo e lo teniamo in nostri cuori. Questo non era previsto. No, però è giusto. Grazie.